Sono Anja Sperti e frequento il quarto anno del corso di trasporti e logistica. Ci troviamo nell'aula di costruzione dove possiamo trovare il motore dell'F86K nel giardino della scuola. In quest'aula possiamo trovare una varietà di motori che passano da motori di elicotteri e poi spaziali a motori storici, di cui uno è stato sezionato proprio per vederne il movimento e le componenti interne. Si passa poi a motori radiali e per finire motori a reazione. In fondo ci sono le varie componenti di motori a reazione, qui invece si svolgono le lavorazioni con lamieri di alluminio.